Musica Ammonta 395,9 milioni di euro il totale dei debiti verso fornitori non accoppiati a fatture che gravano sulle casse dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Un buco nero, secondo il commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario massimo Scura, su cui dovrà fare luce una task force chiamata ad occuparsi di un fenomeno che si traduce in un contenzioso molto oneroso per le casse della Regione. La decisione di nominare la task force è stata illustrata ai giornalisti a Catanzaro dallo stesso Scura e dal subcommissario Andrea Urbani. Il gruppo sarà guidato da un esperto esterno, Pietro Evangelista, che per la ricostruzione del puzzle sarà coadiuvato da professionisti interni ed esterni. Il problema poi in fondo in fondo è sostanzialmente di tipo culturale oltre che di tipo economico. Come ha giustamente detto lei, tra interessi, spese legali eccetera eccetera, noi spendiamo, buttiamo via, diciamo così, alcune decine di milioni l'anno. Con questa task force che costa circa 200-250 mila euro l'anno cerchiamo di recuperare queste decine di milioni. Però non si arriva ad una situazione di questo tipo solo per questioni economiche. E' chiaro che c'è un problema di fondo che coinvolge tutta la nostra società calabrese e che ha prodotto questo che ho definito precedentemente un disastro. Per poterne venire fuori, quindi c'è una task force che però affronta un problema squisitamente tecnico, non è che va lì a predicare, a fare eccetera, perché il problema invece culturale possa essere risolto e tutti facciano per bene il loro dovere, occorre una partecipazione di tutte le istituzioni, penso quindi alla Regione, penso ai sindacati, penso alla dirigenza dell'ASPO di Reggio Canabria, ma poi queste cose, anche se non sono di questa gravità, appartengono anche alle altre aziende della Regione Canabria, perché tutti quanti noi per primi ci mettiamo insieme a lavorare per poter raggiungere obiettivi di qualità della sanità in particolare, non soltanto della contabilità. Grazie a tutti!